ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti o bentornati sul mio canale io sono agnese e oggi voglio mostrarvi la mia impostazione beauty e tutto ciò che era chiuso nel mio angolo dedicato al mini cap questo video mi è stato richiesto da alcuni di voi e spero vi piaccia se è così lasciate un like iscrivetevi al canale allora questa è la mia impostazione trucco ovvero dove realizzo i make up dove mi preparo ogni mattina scusate per la vista dei cavi so che non è proprio il massimo e qui per abbellire un pochino c'è questo quadro gigante di parigi che è un regalo del mio ragazzo un regalo che mi ha che mi ha fatto per il mio compleanno l'anno scorso e qui ho due menzoline dove ho messo un po di cose per mancanza di spazio un altro po per abbellire in realtà dovrei sistemare però non l'ho ancora fatto comunque allora ci avviciniamo qui ho questa sedia molto molto comoda in realtà ho messo su questa questa coperta successivamente qui questa è la sedia che comunque è abbastanza comoda perché se fosse stata imbottita di suo in estate sarebbe stata una tragedia per me anche perché qui è molto molto caldo l'estate quindi non era proprio il caso allora qui ho preso questa specchiera l'ho acquistata al conforma un anno e mezzo fa e mi trovo molto bene però notate bene che le luci sono state aggiunte successivamente e quelle sono proprio inserite nel muro specchiere con tutte le lucette attorno non sono uscita a trovarle allora adesso ci avviciniamo iniziamo dal basso qui ho un porta gioielli un porta anelli che ho acquistato da poco in un negozio che si chiama a casa credo che sia anche quello una catena comunque qui ce ne sono due ed è molto comodo perché basta togliere gli anelli e infilarli qui in questo cigno tengo anche l'orologio anche altri orecchini cose così al posto di tenerle sfuse comunque preferisco metterle in un posto più sicuro e uso questa per abbellimento ma anche per fare foto magari per instagram ci appoggio sopra il prodotto e qui tengo anche questa crema che è una crema notte per gli occhi di charlotte ilburi in realtà è per notte sia per per la mattina quindi comunque è una crema occhi che va a ridurre il gonfiore e gli chi ha in teoria ed è molto comodo lo tengo qui perché appunto la sera prima di andare a dormire e la mattina l'applico e qui per abbellimento e tengo questa questo cartoncino di dior che praticamente mi era stato dato a un evento sephora ancora l'anno scorso e conteneva e tutti i campioncini della del nuovo dior lip lamp quando era appena uscito però mi dispiaceva buttarlo anche perché è molto bello quindi la tengo qui e qui tengo un un rossetto liquido di san lorat questa è la colorazione scusate se non mette bene a fuoco e la numero 3 questo è il tatuaggio ed è un rossetto liquido che non va via neanche con la forza veramente è molto molto bello però faccio davvero fatica a rimuoverlo e qui sempre di san lorat ho un altro dei loro rossetti e tengo qui perché credo che i packaging di questo brand siano davvero bellissimi e quindi mi piace averli sempre sott'occhio ecco qui ho appeso in realtà due medaglioni che utilizzo due mega collane questi li ho entrambi comprati da accessorize anni fa quindi ogni tanto magari quando li metto con dei maioni sono qui a portata di mano anche quelli e qui arriviamo nella zona dei prodotti clou ovvero tutti i prodotti che utilizzo quotidianamente o quasi e quindi preferisco avere sempre sempre sotto mano questa è la crema occhi della clinique di cui vi ho già parlato in passato che però adesso sono un po andata a sostituire con quella di charlotte iguri quindi le alterno in realtà spero che ciò non interferisca con dei possibili risultati perché ci mancherebbe solo quello qui sempre della clinique ho la crema idatante che tengo così perché l'applicatore è davvero e l'erogatore è abbastanza impegnativo e non riesco a tirare fuori il prodotto altrimenti e qui ho un altro pari di prodotti che utilizzo quasi quotidianamente scusate non fate caso al mio smalto ma oggi è deceduto allora qui ho il flawless filter di charlotte ilburi che è praticamente vi farò vedere in un nuovo video perché merita davvero tantissimo merita un video a sé stante ed è appunto una specie di fondotinta in realtà un misto tra un fondotinta e un primer che andrebbe a illuminare la pelle l'effetto è meraviglioso l'unica cosa nel primo utilizzo abbastanza esagerato quindi sembravo una lampadina però è davvero un ottimo prodotto qui sempre della clinique ho la crema idatante che tengo così perché l'applicatore è davvero e l'erogatore è abbastanza impegnativo e non riesco a tirare fuori il prodotto altrimenti e qui ho un altro pari di prodotti che utilizzo quasi quotidianamente scusate non fate caso al mio smalto ma oggi è deceduto allora qui ho il flawless filter di charlotte ilburi che è praticamente vi farò vedere in un nuovo video perché merita davvero tantissimo merita un video a sé stante ed è appunto una una specie di fondotinta in realtà un misto tra un fondotinta e un primer che andrebbe a illuminare la pelle l'effetto è meraviglioso l'unica cosa nel primo utilizzo abbastanza esagerato quindi sembravo una lampadina però è davvero un ottimo prodotto e fatemi sapere nei commenti sotto se vorreste vedere un tutorial fatemi sapere nei commenti sotto se vorreste vedere questo prodotto in azione poi qui ho una crema di heisenberg questo è un campioncino che mi è stato dato da sephora questa è un'altra crema anti età che utilizzo e ha un odore molto molto buono non troppo forte perché comunque mi piacciono le creme o che hanno profumi forti qui c'è il mio cream lip stain di safra il campioncino che vi ho mostrato nell'altro video sui rossetti e lo tengo sempre qui e qui ho altre cosucce come lo smalto di merc jacobs direttamente da un po che non indosso lo smalto nero e altri campioncini questo è un campioncino di di una crema chanel che serve praticamente di un olio anzi scusate chanel che serve per purificare la pelle che però ho usato poco un altro campioncino di un siero lancome che utilizzo anche questo è antirughe e mi trovo molto molto bene e altre varie cosucce se riesco a prenderle allora questo è il mascara melt off di too faced che praticamente se applicato sulle ciglia la sera vi fa rimuovere il mascara molto più facilmente anche questo un campioncino però il cielo da mesi e possono andare avanti ancora un bel po secondo me però un prodotto molto molto valido e appunto ho anche vari profumi miniatura tutti tutti i vari omaggi di sephora qui accanto da notare bene che questa è una confezione vuota di cotton fioc e questo è il coperchio però ho trovato utilizzi alternativi qui ho il bad girl bang di benefit e mascara che utilizzo ogni giorno e che alterno con questo di dior dior show questo è il mini size che mi avevano dato e sono due dei miei mascara preferiti qui ho degli smalti di cuba che in realtà sono fuori posto perché adesso vi mostrerò qual è il costo degli smalti qui ho il siero di farsali che è appunto un primer che utilizzo principalmente per le labbra anche se può essere applicato a tutto il viso prima di applicare la base e qui ho anche questo quest'altra crema di sciseido quindi un misto mare diciamo poi sempre per il make up principale che indosso la mattina qui c'è il mio fondotinta di mark jacobs il mio preferito il bisk light di news gel e qui c'è anche il nuovo dior che vi ho fatto vedere nell'ultimo video get ready with me spero di fare un altro video magari alla luce del giorno dove il nostro che in realtà non divento bianca come un fantasma e quindi alterno anche questi a seconda dei giorni poi qui dietro una carta di chanel quindi un'altra di or e qui alla postazione questo comodo contenitore dove tengo una parte dei miei rossetti mac come saprete io adoro i rossetti mac però li tengo qui con la confezione perché dato il packaging alla fine che sono tutti praticamente uguali a parte le special edition è abbastanza difficile riuscire a capire di che prodotto stiamo parlando quindi ritengo qui qui a ruby vu new york apple russia red candy yam yam lady danger e me qui in realtà infatti devo andare ogni volta a vedere questo è on and on è un frost e qui c'è aiuto scusate pink you think scusate qui c'è anche un pelucco e quindi ritengo qui e a seconda di con del dell'umore anche della giornata scelgo cosa applicare la mattina in questo angolino qui tengo sempre una parte di prodotti che utilizzo quotidianamente quindi qui ho il primer di benefit qui ho i correttori di mac che vi ho fatto vedere che sono stati l'acquisto migliore di quest'anno praticamente qui ho il il blush di kiko che con cui mi sto trovando davvero davvero bene e varie cose qui c'è un up and drive non so bene perché e devo mettere in ordine in realtà ragazze quindi se vi aspettavate una postazione beauty perfettamente in ordine sappiate che questa non lo è qui ho il l'ombretto liquido di huda beauty che vi ho mostrato nell'altro video vari prodotti di urban decay qui al mascara di make up forever e prodotti comunque che utilizzo abbastanza che quindi preferisco avere sempre sotto mano qui ho queste due candele dovete sapere un'altra cosa di me che io sono una fan ossessionata dalle candele yankee e queste sono due delle mie profumazioni preferite perché sono molto molto delicate e poi devo dire che il packaging rosa aiuta abbastanza quindi mi piacciono molto e sono molto nel nel mood che ho scelto per per questa zona in questa zona ovviamente beauty allora poi qui ho un altro contenitore tiro fuori con tutte le palettine di huda quindi le ho messe in ordine a seconda dell'ultima che utilizzo qui abbiamo la warm brown obsession qui c'è la move qui c'è la sapphire e via dicendo in realtà l'unico modo che ho per effettivamente vedere quali palette vado a prendere è questo qui che è abbastanza comodo così mi so regolare e le tengo tutte qui comunque mi trovo molto bene adesso le rimettiamo le metto anche in modo più ordinato e più immediato ok poi qui allora questa scatola che in realtà non è una scatola ma è una mini cassettiera diciamo l'ho trovata in un negozio che vendeva oggettistica per la casa che in realtà non è una catena non è un negozio particolare e mi è piaciuto moltissimo anche perché appunto riflette tantissimo la luce con questo effetto mi piace molto quindi qui tengo prodotti sia mini size sia full size di illuminanti e bronzer questa è per esempio la terra di too faced qui ho l'illuminante di fenty qui invece ho la cipria di too faced la anti swan qui spunta una penna una penna scusate una matita per occhi di mark jacobs sempre una mini spice mentre da questo lato ho la mia cipria di make up forever l'illuminante di anastasia vari ombretti e pupa e sephora qui ho la penna ancora qui ho la matita occhi di charlotte ilburi questo è rock and call e qui ho la mini size finita nel mio profumo preferito della mia colonia preferita in realtà credete le colonie queste clamenti in california la tengo lì per ricordo più che altro perché ho la confezione a 30 ml però la tengo in borsa e nel cassettone più grande qui c'è un altro campioncino di lancome e tengo sia palette sia rossetti liquidi e rossetti normali qui per esempio alcuni rossetti quindi mac to face qui ho le mini size di anastasia altri rossetti kiko cupa misto maybelline questo rossetto che vi ho mostrato le direbbe molto molto bello e qui ho invece la palette qui ho la sabo calcio di anastasia scusate dovrei disincastrare senza far cadere tutto così la sap calcio che adoro però in questo periodo utilizzo abbastanza poco quindi la tengo lì qui ho la neanche questa è la neanche tui e poi la suite di tutto e per adesso appunto sono colori che non non utilizzo spesso quindi ho messo da tanto qui sopra invece abbiamo un muro cacao che è quello che per adesso che ogni giorno di calda lì comunque mi trovo molto molto bene come saprete o le labbra secchissime questo mi aiuta un sacco qui ho un altro rossetto di marca che sto utilizzando spesso in questi giorni che gli di molto molto carino anche questo con questo rosa nude però molto molto delicato che mi piace un sacco e qui abbiamo il mio rossetto rosso di chanel che sto un po trascurando quindi ho deciso di metterlo qui così lo utilizzerò più spesso anche quello di fuda beauty che abbiamo mostrato in un altro video che ha questo packaging davvero molto molto bello mi piace più il packaging del rossetto ve lo rivelo e che quindi ho deciso di mettere qui in bella vista due rossetti di kiko che sono due dei prodotti migliori secondo me del brand con cui mi trovo molto bene questo è l'eyeliner di mac scusate black track e qui ho anche questi glitter fantastici per occhi di mac che non utilizzo spesso perché appunto sono abbastanza difficili da utilizzare però sono davvero davvero belli e aggiungono anche un tocco di colore poi qui sopra ho questa palette allora vedo di non far cadere niente iniziamo questa palette di hourglass che è quella che vi ho mostrato in qualche video che appunto una palette di illuminanti di di blush e di bronzer la marocan spice di fenty beauty di rihanna la mia palette ex palette preferita prima che arrivasse quella di hourglass quella di becca che appunto una palette sempre di blush illuminanti e bronzer scusate ma il pollice punibile non aiuta ok adesso ce l'ho fatta questa è la palette che ho da più di un anno ma i prodotti sono ancora tutti lì non perché non li utilizzi perché assolutamente l'ho usata tantissimo ma perché c'è davvero tanto tanto prodotto qui ho le palette di huda le palette grandi questa è la desert dusk bellissima qui ho la rose gold che però è senza specchio che è uno dei difetti più grandi di questa palette e questa è la prima edizione però non quella rimasterizzata che è uscita quest'anno quest'anno scusate l'anno scorso nel 2018 poi qui altre cosine o questo questo balsamo labbra diciamo di charlotte ilburi qui ho i rossetti liquidi di huda questi sono però della collezione demi matt quindi hanno praticamente un finish e glossato brillante appena lo applicate ma se poi andate a rimuovere il prodotto con una serviettina rimane molto molto opaco diventa matt e sono anche arricchiti con del mentolo quindi sono davvero davvero belli fanno anche un bel effetto sulle labbra questa è la mia tonalità preferita e poi qui cosa ecco un'altra matita labbra di matt sono tutti i prodotti che utilizzo abbastanza quindi mi piace tenerli in prima linea ecco qui ho la palette di jacqueline hill con morphe la norvina di anastasia beverly hills e questa è la palette di nars che ho acquistato con i saldi poi qui ho un'infinità praticamente di eyeliner di penne perché continuo a dire penne scusate di matite per occhi matite labbra questo è l'ombretto liquido di fenty beauty che ho utilizzato qualche volta però mi dà un po fastidio vi dirò perché fa abbastanza grumi sugli occhi quindi non piace l'effetto che dona e poi qui sotto col set di pennelli di sephora e che ho utilizzato qualche volta però tengo lì perché ho deciso che prima distruggerò quelli che sto già utilizzando che tra un po andranno in pensione dopodiché utilizzerò quelli nuovi allora adesso passiamo ai cassetti invece qui tengo le mini size dei prodotti o anche prodotti che non utilizzo tantissimo questo per esempio è il blush e lip gloss di i toni molly che non mi fa impazzire però appunto non riesco a buttarlo e ho anche doppioni gli altri prodotti qui ho un altro por fashion al punto appena finirà quello che sto utilizzando qui o del della base per applicare i glitter i campioncini di make up forever del mascara insomma un po di misto anche qui anche i campioncini di profumi questa è una spazzola che dovrei tenere in borsa ma in realtà non so perché sia quindi va bene qui altre scatoline più al bacio di client adoro tutto questo genere di scatoline molto molto carine personalizzate scusate per quello per quel rumore assolutamente fastidioso qui ho altri allora qui ho delle maschere che però in realtà non dovrei tenere più perché non è il loro posto vabbè scusate e la pinzetta di sephora qui ho altro make up in questa bustina si tratta del make up di dovrebbe esserci il nome del brand aiuto non cioè vabbè volevo farvi un tutorial comunque perché è un brand molto particolare e vabbè lo terremo segreto qui ho le ciglia finte che non utilizzo ma vabbè ragazzi scusate ho spento queste luci a led perché ho visto che davano fastidio alla fotocamera in realtà io filmo col telefono quindi allora qui ho un nuovo rossetto liquido di sephora che ho acquistato l'ultima volta un colore che mi piace molto questi sono i due campioncini che mi hanno dato quindi uno è di origins che è una maschera di 10 minuti idratante questa è un'altra di tucco for school non ho mai provato nulla di questo brand quindi sono molto curiosa qui un altro campioncino di profumo dovrei fare l'angolo campioncini allora avrei tutto in ordine poi qui ho allora questi sono praticamente delle maschere labbra di paciologi ne ho già provata una e devo dire che lascia le labbra davvero davvero morbide è un giallo idratante praticamente l'ho lasciato su finché il prodotto non si è riassorbito mi è piaciuto molto qui c'è la collezione natalizia di rossetti liquidi di too faced come vedete in realtà manca il pumpkin spice e non i sugar cookie che è questo qui e il pumpkin spice viene sempre via in borsa con me qui ho altre palette o quella di becca o la white page di too faced e varie cosine qui ho anche il nostro lip strobe di huda che è praticamente il topper un'altra palette di too faced insomma altre palette queste le utilizzo un po meno però sono colori un po più vivaci non li uso spesso ragazze adesso passiamo ai piani alti qui ho praticamente tutti i miei smalti ho fatto una grandissima pulizia di smalti qui ho anche dei miei pennelli scusate sono orribili devo lavarli però il contenitore in cui li custodisco è molto molto bello in realtà era un potto a spazzolino da bagno di zara home però io ho trovato utilizzi secondari e appunto questi sono tutti i miei smalti non sono tantissimi qui c'è chicco pupa perlopiù ne ho qualcuno di essi e qui ho anche i miei rossetti liquidi quindi qui ho tutti quelli di fuda qui ho la collezione di lucida labbra difenti su cui vorrei fare un video altri rossetti di safra così sono i lip stories questi invece non sono dei rossetti perché sono degli intrusi si tratta infatti degli illuminanti di fenty beauty che sono molto molto carini vorrei mostrarvi anche questo in un video a parte qui o il primer della urban decay optical illusion con cui mi trovo abbastanza bene però preferisco il professional e niente qui ho questa clessidra che è giusto per abbellire e la confezione del mio profumo preferito che è blush di barberry e invece qui sopra scusate ma sono in bilico allora in realtà questi li ho appoggiati qui però dovrei trovare un altro posto sono i rossetti liquidi della collezione natalizia di anastasia beverly hills anche questi molto molto belli e qui ho un libro sul make up che praticamente richiede tantissimi look 50 ecco c'è anche scritto buongiorno e 50 look e mi piace tantissimo questo mi piacerebbe trovare un altro posto però è carinissimo quindi lo voglio tenere in vista a una coffee break che è un po il mood in generale della vita qui ci sono delle candele che ho comprato da ikea che non ho ancora aperto però profumano alla rosa una scatola di pandora e qui ho un altro porta pennelli con un pennello solo che non uso neanche quindi è un po lì buttato e qui invece ho un'altra candela che ho finito di questa di questo brand che le conto no scusate non riesco neanche a vedere allora le conto a scusate della bougie e scusate anche per il mio francese quindi perdonatemi però è un brand che fa candele davvero davvero bellissime e ragazzi adesso arriviamo all'ultima parte del mio tour beauty allora qui questo è un altro mobiletto vicino a quello dove vi ho appena mostrato tutta la mia postazione make up dove qui tengo altre cosucce allora qui ho questi quadri con frasi abbastanza rappresentative della mia esistenza quindi qualcosa di positivo e qualcosa di realista quindi ho bisogno di dormire di più e qui scusate non fate caso questo specchio che anche questo è da pulire e ho alcuni dei miei profumi quindi qui ho questo di moschino pink flower che è bellissimo però utilizzo soprattutto in estate qui ho quello di kevin klein share beauty io ho la mania di acquistare i profumi in aereo e entrambi questi li ho acquistati in un aereo qui ho una candela di zara ovviamente e questo invece l'ho acquistato e sempre nella catena di cui vi ho parlato che si chiama a casa quindi qui tengo altri acquistano dei gioiellini in realtà braccialetti anelli qui tengo altri campioncini di profumo qui altri prodotti beauty quindi per esempio un altro profumo di chicco qui ho un illuminante di essence sempre di essere un ombretto liquido insomma sempre altri prodotti questo invece non volete sapere cosa nascondiamo qui una conchiglietta che ho preso l'estate scorsa a casa mia e niente un profumo uno smalto di chanel qui ho il kit labbra di huda beauty che tengo in bella vista per per bellezza e qui invece ho il mini size di dior che mi hanno dato all'evento sephora il mio my blush my barberry blush il mio profumo preferito di chanel che è chance che adoro 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 infatti lo so quasi finendo qui c'è il kit natalizio di benefit dove appunto ho trovato il full size di bad girl bang del professional insomma vari prodotti molto molto allettanti qui sopra o il blush face di questa forma di cuore che è una confezione talmente carina che appunto la tengo lì esposta questo blush è bellissimo e qui sempre di too faced come potete vedere c'è sempre questo mondo rosa diciamo e qui a questi due lip gloss di too faced sweet peach quindi della stessa collezione della palette e ritengo su questa conchiglia che ho acquistato da tiger se non sbaglio invece qui ho un altro set di pennelli vari matite varie e qui ho il primer di too faced e questa tazza più chiuso che l'ho acquistata da amazon spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi il like iscrivetevi al canale alla prossima